E' con questo brano del gruppo Amazing Grace che apriamo la nostra rubrica Le Sacre Scritture un brano che ha per titolo Guarda Gesù, infatti Gesù è il soggetto della nostra riflessione Gesù è il soggetto della nostra fede, Gesù è il soggetto dei nostri approfondimenti quindi con noi il pastore Giovanni Leonardi, benvenuto Giovanni Grazie, un abbraccio a tutti Allora, di cosa parliamo oggi? Quindi Gesù è il centro della nostra discussione ma qual è l'aspetto della vita di Gesù e del vivere in Cristo e con Cristo vuoi prendere in considerazione oggi? Io quando vengo qui mi faccio sempre una domanda di cosa hanno bisogno gli amici che ci ascoltano? Certo abbiamo tanti bisogni nella vita che riguardano il nostro quotidiano le nostre famiglie, i rapporti con gli altri, il lavoro, la salute, le speranze, i dolori sappiamo tutti che la vita è fatta di tante cose però io vengo qui perché questa è una radio cristiana e quindi immagino che gli amici che ci seguono vogliano conoscere Gesù vogliano in qualche modo come dire, vivere un'esperienza con Lui ed io vorrei contribuire a rafforzare questo amore che voi amici ascoltatori avete per Cristo o se non lo avete ancora il mio più grande desiderio sarebbe quello di contribuire a farvi innamorare di Gesù ma bisogna quindi conoscerlo e quindi stiamo provando in questi nostri incontri a parlare di Cristo e a capire che cosa significhi vivere con Lui camminare con Lui essere un cristiano abbiamo detto qualche settimana fa non è solo credere che sia esistito Gesù che sia stato un maestro che sia stata una guida spirituale che abbia fatto miracoli credere in Gesù essere cristiani significa comprendere che Cristo ha il posto fondamentale nella nostra vita di oggi un abbandono un dargli la fiducia del nostro cuore della nostra mente e della nostra vita perché Gesù possa darci tutto il bene di cui noi abbiamo bisogno e perché noi possiamo grazie a Lui e in Lui riuscire a scoprire il senso della nostra vita e della vita del mondo un elemento che mi impressiona è come Gesù viveva con gli altri a volte molte anime sensibili si fanno questa domanda ma io sono abbastanza degno di avere l'amore di Gesù ecco quando io guardo a Gesù nella sua vita concreta ancora prima di sentire i suoi insegnamenti però già questo è un insegnamento io scopro che non c'era persona che fosse al di fuori del desiderio di Gesù di raggiungerlo di sostenerlo mi farebbe piacere parlare di questo molto bello ecco vorrei cominciare leggendo un testo dal Vangelo in Matteo a capitolo 4 i versi dal 18 al 20 il nostro Emanuele li leggerà per noi e allora Gesù vide due fratelli uno chiamato Simone detto Pietro e l'altro Andrea suo fratello i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori e disse loro venite dietro a me e vi farò pescatori d'uomini ed essi lasciate subito le reti lo seguirono ecco grazie qui noi vediamo Gesù che sente che sa di avere qualche cosa di bello da offrire agli altri ma può offrirlo può condividerlo con loro solo se loro accettano di vivere un'esperienza con lui Gesù ha molto da darci però è un molto che Gesù non ci può dare contro la nostra volontà contro l'adesione del nostro cuore e della nostra mente ecco Gesù che già aveva cominciato da tempo a predicare il regno di Dio e che certamente si era fatta una certa fama a un certo momento ad alcune di queste persone che erano impegnate nella loro vita quotidiana una vita onesta fatta di fatiche di lavori di impegno di famiglia dice lasciate questo venite dietro a me io ho per voi un progetto che è ancora più grande voi adesso pescate pesci io vi darò il privilegio di cercare e di pescare di raccogliere degli uomini per il regno di Dio e per tutto ciò che questo regno rappresenta e questi uomini che certamente avevano già imparato ad ascoltarla decidono di lasciare questo certo il Vangelo non ci racconta operativamente come la cosa avvenne ma ci racconta la decisione che è quello che conta questi uomini decisero di seguire Gesù di vivere questa esperienza con Gesù alla quale Gesù li invitava ecco a me sembra che anche se con modalità diverse Gesù chieda a tutti quelli che incontra seguimi accetta di condividere la mia vita accetta di di passare dei giorni con me perché io voglio darti mi verrebbe da dire io ti voglio conoscere in realtà Gesù non ha bisogno di conoscerci perché già ci conosce ma ha bisogno vuole vuole dirci che io voglio rispondere al tuo bisogno di avere la certezza di essere conosciuto da me Gesù ci conosce ma noi non lo sappiamo che lui ci conosce e fino a quanto in profondità allora Gesù con questo invito mi viene a dire lo dice a tutti noi io voglio passare del tempo con te ancora prima di chiedere agli altri venite a passare voi del tempo con me quando dice seguitemi vuol dire per me tu sei importante voglio stare con te ma ci posso stare con te solo se anche tu vuoi stare con me ecco Gesù aveva questo desiderio profondo di comunione con tutti e nella sua vita ha incontrato persone di tipo diversissime in condizioni diversissime e con tutti ha cercato di stabilire una relazione Gesù aveva molte dissonanze con il partito dei farisei ma il Vangelo ci dice che Gesù andava a pranzo con i farisei stabiliva un rapporto di amicizia anche con queste persone Gesù viveva in Galilea e andava spesso a Gerusalemme in Giudea in mezzo c'era il territorio dei samaritani una gente considerata impura un popolo che non avrebbe neppure dovuto esistere eppure Gesù passa in mezzo ai samaritani e stabilisce un rapporto di simpatia con una donna dei samaritani accettando poi l'invito ad andare nel paese dove questa donna viveva Gesù ha parlato con dei fenici Gesù ha parlato con dei romani con dei greci e a tutti ha cercato di offrire quello che lui aveva Gesù ha stabilito buoni rapporti con delle persone ricche che lo sostenevano in qualche modo nella sua attività di pellegrinaggi per la terra di Israele insieme ai suoi discepoli ma ha avuto un occhio di riguardo con i poveri con i miseri con gli ultimi sapeva parlare con il re ma abbracciava gli umili gli ultimi riusciva anche a toccare i lebrosi senza che niente lo costringesse a farlo addirittura trasgredendo delle norme della legge che avevano una ragione nobile quella di evitare i contagi però Gesù ha amato queste persone a cui la malattia aveva tolto anche la dignità dei rapporti umani di toccarli prego sì no mentre tu parlavi la mia mente volava e così come ho detto all'inizio lavorava di immaginazione io vedo Gesù che come è descritto nell'Evangelo non aveva una una fisico appariscente affascinante non era molto attraente come come un uomo era un uomo normale aveva un fisico normale un volto normale allora chi attraeva non era la gente affascinata da questa figura era la parola quando Gesù parlava era la parola che affascinava era il modo di parlare e il contenuto delle parole di Gesù non era fisicamente attraente ma era nella parola Gesù è il verbo di Dio la parola o mi sbaglio no hai certamente ragione gran parte del ministero di Gesù è formato di parole perché era un predicatore aveva anche dei gesti c'era che certamente lo seguiva anche per i miracoli per la potenza divina che emanava da lui però il Vangelo ci dice qualche cosa di più non ci dice solo che Gesù aveva delle belle parole ma che lui era la parola e questa parola Gesù si manifestava nel suo modo di essere non solo nelle parole che diceva ma come tu hai detto nel modo in cui le diceva ma anche Gesù che taceva ma che abbracciava che toccava che andava a casa anche questo era parola ma era una parola vivente che dava testimonianza di quest'amore di Dio per tutti gli uomini senza confine di nessun tipo né razziali né nazionali né religiosi né sociali né di salute né di potere il Vangelo ci dice Dio in Gesù ha tanto amato il mondo e in questo mondo come lo vede Dio è un mondo senza confini abitato soltanto da figli suoi che lui ama e ai quali ad ognuno di loro vorrebbe dare questo amore in termini molto concreti di sostegno nella vita di abbraccio affettivo di dignità di speranza per il futuro ecco questo Gesù mostrava di essere una parola straordinaria di cui molti accettarono l'invito non conosco altri casi nella storia di Israele biblico in cui un uomo sia stato capace senza avere un potere umano di trascinare di condurre dietro di sé migliaia e migliaia di persone che per giornate intere senza neppure preoccuparsi di mangiare di bere lo seguivano perché attratti da ciò che questo uomo rappresentava ecco quest'uomo ha certamente tra le sue braccia uno spazio anche per te amico e amica che ci stai ascoltando non pensare mai che qualunque sia la tua situazione Gesù non abbia posto per te e tuttavia per essere onesto anche con voi che ci ascoltate bisogna dire un altro aspetto dell'atteggiamento di Gesù perché Gesù che invitava a seguirlo tuttavia spiegava per bene che cosa voleva dire perché non era adatto a tutti questa sequela e sempre nel Vangelo di Matteo al capitolo 8 al versetto 19 noi troviamo qualcuno che si è proposto lui probabilmente dopo aver ascoltato l'invito di Gesù a seguirlo e decide di seguirlo con come dire come una decisione indiscutibile inappellabile ecco c'è la legge il nostro Emanuele versetto 19 uno scriba avvicinato si gli disse maestro io ti seguirò dovunque tu vada dovunque tu andrai e Gesù gli disse le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo un altro dei discepoli gli disse signore permettimi di andare prima a seppellire mio padre ma Gesù gli disse seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti ecco abbiamo qui due casi di persone con un atteggiamento leggermente diverso il primo è lui che dice signore io ti seguirò fino a morire per te l'altro che dice sì signore io ti seguirò però prima ho qualche altra cosa da sbrigare prima c'è sempre un ma a volte che poi diventa una montagna tra noi e le cose importanti ecco Gesù al primo che lo vuole seguire con tale decisione gli dice guarda non è che lo respinge non è che gli dice no io non ti voglio la disponibilità di Gesù rimane però Gesù è onesto e gli dice tu mi vuoi seguire perché cosa che cosa ti aspetti da me se tu ti aspetti ricchezza e potere successo sociale affermazione nella vita sappi che io questo non te lo posso offrire io sono da questo punto di vista ancora meno delle volpi che hanno delle tane e degli uccelli che hanno dei nidi io non ho una pietra dove possare il capo tu ancora mi vuoi seguire e all'altro invece che dice io voglio seguirti signore però altre cose da fare Gesù pone quasi un auto come per dire se tu mi vuoi seguire veramente se tu hai capito che cosa significa vivere con me tu non puoi aspettare domani non puoi pensare prima di adempiere i doveri della tua vita quotidiana perché se tu pensi che quei doveri della vita quotidiana possano impedirti di venire oggi vuol dire che non hai capito non hai capito cosa significa seguirmi abbi fiducia in me il problema lì non era quello di seppellire il padre morto probabilmente quest'uomo vuole dire aspetta prima che mio padre muoia e quando sarà morto che l'avrò seppellito io ti seguirò anche perché essere in lutto non sarebbe stato lì ad ascoltare immagino che sarebbe stato in casa avremmo avuto altre cose prima codisca mio padre perché il padre aveva bisogno di essere codito ma Gesù non è che viene a toglierci dai padri non è questo cioè vedere questa alternativa e non avere capito Gesù Gesù non ci chiede di essere meno amorevoli seguirlo non ci allontana dagli amori legittimi dalle responsabilità solo che li pone su un livello superiore in cui il mio rapporto con gli altri non è più il rapporto dell'egoismo io amo quello perché è il mio ma io imparo ad amare nell'insieme di un amore che si rivolge anche verso tutti che supera i confini che è più grande che è più elevato che è più profondo ci sono state dei momenti in cui la folla che seguiva Gesù seguiva sperando in quello che Gesù non poteva dare perché i loro cuori erano confusi e non capivano bene e loro si aspettavano che Gesù con la sua potenza potesse risolvere tutti quanti i loro problemi potesse instaurare il regno di Israele in cui Israele avrebbe dominato sulle nazioni e Gesù e Gesù e quando invece Gesù cominciò a parlare della necessità di sacrificarsi per gli altri di amare gli altri fino a dare la vita per gli altri questa gente lo ha lasciato noi parliamo di allora di allora di uomini di quel tempo che erano duri di cuore non avevano capito Gesù lo seguivano per interesse e io dico ma oggi è cambiato qualcosa? io credo che non sia cambiato che anche oggi molte volte pensiamo di avere accettato di vivere con Gesù e in realtà posticipiamo in realtà o posticipiamo o pensando di farlo già in realtà di vivere con le aspirazioni del nostro cuore che non sempre sono legittime e pensiamo che Gesù sia lì per sostenerci ma in realtà non siamo veramente con lui per oggi Gesù ci invita lascia e seguimi abbi fiducia